Se trovi i tuoi amici, come stai detto? Motivo? Non è un bel momento, il mio padre è venuto a mancare sotto le feste della Nadai. Ancora torno a te bene. E se che roba è che non ti si può mandare via. Purtroppo il gas ha un vuoto. Ma come si è mancato? Come si è mancato? Ti si dico a casa, mi vado a lavorare e io vado a mettere i luminarie di Nadal. E dico sta fermo che ti hai 80 anni. No, voglio andare a mettere i luminarie di Nadal. E il parte quel sabatino in piede all'interno, scaeta di alluminio e metti la scaeta insieme al tetto di a casa. Queste sabatine in piede, perché ho fatto 3 scaetini su un colpo. Porca puttana, non si spacca mica la scaeta, dice. Ah, io tu dico che scaeta dal tetto. No. E la scaeta si sta su. Pensate che i cammini sono tutte e tegue. Dico che scaeta dal tetto? No tegue. E tegue che scava la grossaia. E la grossaia che scava la metrata. E io, per fortuna, dice, che scaeta dal caminetto. Ma il caminetto, dice, che aveva un malta muore. E che scava il cammino. Ma io pescavo il cammino. No, disperta pratica. E il cammino, dice, che scaeta insieme alla macchina, se c'è qua la macchina. Ma io, io, per fortuna, dice, che scaeta il mezzo sbilanciato, l'entrino, schiena. E i figli che aveva tirato, scaeta sul vomito. E che scaeta i figli. I figli, che scaeta il pin, che scaeta fuoco il pin, e anche il tetto del legno. Ma, se aveva bruciato? No, dice. Se aveva fulminato? No. Ma, quello secondo, se puoi sapere a dire quando sei morto tuo papà. O dire, se no che sparo l'osso, mi devi fare a casa di lui.